di Peppe Channel Se hai la testa un po' confusa il tuo cuor non sa che dire con l'arte magica ti saprò di quale vi eseguire Buongiorno da Peppe Channel Ecco a voi la classifica dei tre segni sfortunati di questo giovedì 4 aprile in questa posizione pesci state attroversando un periodo molto positivo ma attenzione a breve risponderà una emoroide grande quando una noce di cocco in questa posizione a chiedere l'azienda dove la si fila di voi vi ha dato carta bianca peccato che si tratti di carta igienica quindi un modo elegante per mandarvi a cagare in prima posizione toro ultimamente siete molto sfortunati a breve vi arriverà in testa un meteorite quando la Sardegna è tutto a domani con il pivistrello di Antonio Manganiello con la classifica per essere gli più sfortunati ciao devo dire che